E' cambiato tutto dopo New York. Vivi delle esperienze al limite, poi tutto finisce. Non dormo più. E se dormo, ho gli incubi. Davvero, molte persone vogliono uccidermi. Ma c'è una cosa che voglio proteggere, senza la quale non vivrei. Signore, bambini, becore. Alcuni mi ritengono un terrorista. Io mi considero un maestro. Lezione numero uno. Gli eroi non esistono. Gli eroi non esistono. Gli eroi non esistono. Gli eroi non esistono.